Non le dico tutto, o che le dico il paese o che le racconto il fatto, perché se le racconto tutte e due poi va a finire che vado nelle grane, perché è brava gente, però sono un permalosi, e comunque se io fossi in lei sceglierei il fatto, di farsi raccontare il fatto, perché il fatto è di gran lunga, un gran bel fatto. Conoscevo Tino Faussone da due o tre sere soltanto, ci eravamo conosciuti proprio qui in Mensa, ha una faccia buffa, mobile, espressiva, però non è un gran raccontatore, perché tende alla diminuzione o alle lissi, come se temesse di imparire esagerato, però spesso si lascia trascinare e allora esagera senza rendersene conto. Ha un vocabolario ridotto, si esprime spesso attraverso luoghi comuni che forse gli sembrano arguti e nuovi, e se chi ascolta non sorride, lui li ripete, come se avesse da fare con un tonto. Perché sa, io faccio questo mentire di girare per tutti i cantieri, le fabbriche e i porti del mondo, perché l'ho sognato, a me i sogni, mi piace farli venire veri, se no rimangono come una malattia, che uno se la porta presso per tutta la vita, o come la farlecca di un'operazione, che tutte le volte che viene umido torna a fare male. Ecco, si capisce che a voler vedere per forza tutto il mondo c'è il pro e il contro, perché per esempio uno non può farsi una famiglia e neanche degli amici, che a proposito deve sapere che l'amico che a lasciarlo mi ha fatto più magone, ecco, quando le dico chi è stato, a lei, lei fa un salto così, così, così. Di regola va così, lui entra di prepotenza con qualche avventura o disavventura da raccontare e la snocciola, tutta ad un fiato, in quella sua maniera trasandata, a cui ormai ho fatto l'abitudine. Così però avviene che si tende più al monologo che al dialogo. Per di più il monologo è appesantito da questi suoi tic ripetitivi e dal suo linguaggio che tira piuttosto sul grigio. Forse è il grigio delle nebbie del nostro paese, o forse invece è il grigio delle lamiere e dei profilati che sono poi gli effettivi eroi dei suoi racconti. Allora, io dovevo montare un derrick, una di quelle torri in traliccio che servono per trovare il petrolio. Dentro c'è tutto il coso elettronico, i comandi per le pompe, sotto ci sono i tubi d'acciaio e insomma tutto un cine che di regola uno lo vede al cine, proprio al cine, perché ci sono quei film che fanno vedere le cose del Texas, i tralicci delle cose, come montaggio era roba da ridere, non ci sarebbe neanche stato il bisogno di un montatore, bastava un manovale e io ne avevo tre, ne avevo tre di manovali, ma Dio buono, erano buoni solo a battere la lana dal mattino alla sera e a parlargli, non rispondevano neanche, sembravano indormiti, dai, contro i mori io non avrei niente da dire, ma quelli laggiù sono di gran lunga, pelandroni e dei contastorie, allora, l'inglese non lo parlano, la loro lingua io non la capisco, vino niente, oh non sanno neanche cosa sia il vino, delle loro donne sono gelosi, è parola mia, che hanno torto perché sono piccole, con le gambe corte e hanno stomico che arriva fin qua, dai, ma mangiano delle robe, che fanno, ma fin senso, e non insisto perché siamo quasi a ora di cena, ecco, io le dico così perché io ci metto l'anima in tutti i lavori, anche nei più balordi, anzi, o con più che sono balordi, tanto più io ce la metto l'anima, eh? Questo argomento era centrale, mi sono accorto che Faussone lo sapeva, se si escludono istanti prodigiosi e singoli che il destino ci può donare, l'amare il proprio lavoro, che purtroppo è privilegio di pochi, costituisce la migliore approssimazione concreta alla felicità sulla terra, ma questa è una verità che non molti conoscono, questa sconfinata regione, la regione del rusco, del bulot, del job, insomma del lavoro quotidiano, è meno nota dell'Antartide, e per un triste e misterioso fenomeno avviene che ne parlano di più e con più clamore proprio coloro che meno l'hanno percorsa. Per esaltare il lavoro nelle cerimonie ufficiali viene mobilitata una retorica insidiosa, cinicamente fondata sulla considerazione che un elogio o una medaglia costano molto di meno rispetto ad un aumento di paga e rendono molto di più. Però esiste anche una retorica di segno opposto, non cinica, ma profondamente stupida, che tende a denigrarlo il lavoro, a dipingerlo vile, come se del lavoro proprio o d'altrui si potesse fare a meno, non solo in un mondo utopico, ma qui e oggi, come se chi sa lavorare fosse per definizione un servo, o come se per converso chi lavorare non sa, o sa male, o non vuole, fosse perciò stesso un uomo libero. È malinconicamente vero che molti lavori non sono amabili, ma è nocivo scendere in campo carichi di odio o preconcetto. Chi lo fa si condanna per la vita a odiare non solo il lavoro, ma se stesso e il mondo. Si può e si deve combattere perché il frutto del lavoro rimanga nelle mani di chi lo fa. Si può e si deve combattere perché il lavoro stesso non sia una pena. L'amore o rispettivamente l'odio per il proprio lavoro sono un dato interno, originario, che dipende molto dalla storia personale dell'individuo e meno di quanto si creda dalle strutture produttive entro cui esso si svolge. Insomma, se le dico che laggiù il mio solo amico che sono riuscito a farmi è stata una scimmia, mi deve credere, non avevo alternativa, una scimmia, uno scimmiotto col muso da cane. Il primo giorno stava lì solo a guardare, il secondo faceva la ronda intorno alla cassetta dei bulloni e li provava con i denti per vedere se erano buoni da mangiare. Il terzo aveva già imparato che ogni bullone va col suo dado, anche se non ha mai capito bene che i filetti sono destri. Lo sa che è proprio un peccato che anche noi montatori non abbiamo quattro mani come loro e magari anche la cova. Insomma, io ho montato il traliccio, poi il quadro di comando e lui sempre a guardare come incantato. Mi guardava come se volesse chiedermi tutti i perché e se io non gli rispondevo, piangeva come un bambino piccolo. Quando viene il lunedì e torno al cantiere, il traliccio era come se uno gli avesse dato una sberla. Lui era lì seduto che mi aspettava tutto fiero. Chissà cosa si credeva di aver fatto. Aveva fatto scendere il gancio, me l'aveva visto far tante volte, garantito che ci aveva fatto l'altalena. Lo aveva chiuso in un longherone e poi aveva premuto il bottone della risalita mettendo il traliccio in tensione come era adesso. Beh, dico, cosa aspetta ancora? Guardi che la storia del Derek è finita. L'ho messo dritto, ho fatto fare tutte le verifiche, ho fatto le valigie e me ne sono tornato a casa. E il loro simiotto? Ah, il simiotto! Ben che aveva fatto quel guaio, avrei voluto portarmelo dietro, ma poi ho pensato che qui da noi sarebbe venuto tisico, che alla pensione non me lo tenevano e che per le mie zie, insomma, sarebbe stata una bella rogna e del resto il vigliacco, dopo quello che aveva combinato, non si è più fatto vedere. Grazie.